Ormai un appuntamento tradizionale del Natale, il presepe vivente di Cavaticchi, giunto alla quinta edizione, sindaco, un appuntamento davvero importante per la vostra comunità. Assolutamente sì, noi quando avevamo definito questa manifestazione già dal primo anno nato in condizioni particolari, in un'area che abbiamo tutti insieme provveduto a bonificare, a sistemare perché era un'area abbandonata e da lì è nata appunto questa bellissima manifestazione che rappresenta appunto la natività e avevamo in mente, credo ci siamo riusciti anche se possiamo ulteriormente migliorare insieme appunto a tutti gli abitanti di Cavaticchi, allo straordinario supporto di Don Mario Probi, della parrocchia di Santa Teresa, siamo riusciti, potendo ulteriormente migliorare, a farne uno dei punti della cultura della città di Spoltore. Quello che andremo a rappresentare è sì, diciamo, la classica rappresentazione della natività, però lo facciamo col cuore, quindi mettendoci enfasi perché crediamo effettivamente in questo viaggio che ogni persona compie prima all'interno di se stesso e poi dopo che insomma uno si è migliorato, ha cercato di dare il suo meglio, può veramente andare a incontrare il Signore e stabilire con lui un rapporto di amore per poterlo condividere anche con i fratelli. Il 29 appuntamento a Cavaticchi, il posto denominato Lipratic, proprio dalla conformazione del paesaggio, prende questo nome.